Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che non ha trovato grande spazio sui media e nemmeno sui social e nemmeno dove questa notizia doveva avere una grande risonanza di cosa si tratta? Del cosiddetto reddito di inclusione, un provvedimento contro i poveri un provvedimento contro le persone che stanno peggio di noi e che rappresenta, secondo il Ministro Poletti che l'ha presentato, un primo passo per venire incontro a quelle famiglie che hanno un problema esistenziale. Bene, perché la notizia è stata nascosta? Perché nell'agenda setting venivano fuori prima le elezioni inglesi, poi la polemica sulla legge elettorale mancata, poi ulteriori notizie che riguardavano appunto la cronaca e questa notizia è stata quasi nascosta, come se i poveri non facessero più parte della nostra vita, come se non siamo più protesi a cogliere quei bisogni che vengono dalla nostra società. È un po' qualcosa che si ripete quotidianamente quando ci rendiamo conto che ci sono persone a cui dovremmo prestare un'attenzione diversa, invece non lo facciamo, non ci sentiamo motivati abbastanza. Accade per esempio nel grande dibattito che è certamente aperto sulla migrazione e sull'arrivo di migranti che con il bel tempo aumenterà nelle coste siciliane e lo facciamo anche quando pensiamo a tutte quelle persone che attimo dopo attimo non sanno come fare per riuscire ad avere un po' di cibo, per riuscire ad avere dei vestiti, per riuscire ad avere soprattutto una vita dignitosa. Ci saranno dei nuclei, dice il Consiglio dei Ministri, che andranno a stabilire se un povero è veramente povero o se è un finto povero e quindi sarà riconosciuta una certa cifra. Naturalmente qual è la polemica che ha rispaccato il Paese? La polemica è quella che non si capisce se questa cosa è stata fatta a poche ore dalle elezioni amministrative soltanto per cercare di guadagnare un po' di consensi da parte del Governo. Bene, però un esperto che è stato sentito da una rete della RAI ha spiegato che l'iter di questo provvedimento è iniziato a marzo e che quindi non c'è nulla di losco. Ma perché invece di pensare ai poveri pensiamo alle polemiche politiche? Perché forse i poveri sono molto nascosti e noi non ce ne rendiamo conto.